quindi io accendo ok ovviamente mi spiace che adesso venga male perché rivedete il riflesso della luce ma guardate cosa succede se io diminuisco il rosso che io qua sto diminuendo il rosso ma qua non si vede tanto lo metto meglio ok quindi allora adesso tolgo rosso no guardate cosa succede all'action camp che sta registrando e non so si vede anche sì dovrebbe vedersi anche nel telefono praticamente c'è da tutti questo è il test per vedere quale action camp compensa meglio la perdita di rosso che ha lunghezza d'onda maggiore quindi sott'acqua sente di più quando andiamo in profondità infatti già 5 metri non c'è più rosso io lo simulo con questa lampada che è rgb e io posso prendere solo il rosso e dirgli fallo diventare 40 fallo diventare 30 e vediamo quale di queste action camp compensa meglio quindi adesso cosa succede vi faccio vedere un bianco come dovrebbe essere e lo bilancio facciamo così ok e questo mi servirebbe per il bianco adesso bilancio il bianco così ok già qualcosa mi fa bibi spero che non sia un problema sto registrando con tutte le action camp forse stanno passando dall'altro poi adesso vi farò vedere io dirò tipo 90 a parte che si vede sullo schermo dirò 90 80 cioè tolgo via via rosso alla fine a 100 cioè a 0 quando tolgo da 99 arriva a 0 sono praticamente a 5 metri quindi se fosse lineare ogni 10 sarebbe mezzo metro che vado sott'acqua vediamo di queste action qua quale rende meglio lo scopo di questo test in cui tolgo il rosso che cos'è vedere quale action camp ha il white balance underwater più preciso il bianco di riferimento deve restare sempre bianco va da 99 a 0 il rosso siccome quando è a 0 è più o meno 5 metri di profondità così empiricamente perché a 5 metri perdiamo tutto il rosso quindi abbiamo un 100 diviso 5 vuol dire che ogni 10 è come mezzo metro sott'acqua vi faccio vedere gli split screen adesso guardate quale action camp mantiene il bianco di riferimento che vi metto che deve essere sempre bianco anche se io via via tolgo il rosso perché lei ha il white balance underwater alcune l'han proprio indicato tipo la catapult 50x farà tutto rosso anche adesso altre no fate caso a quale rende meglio comincio quindi qua è 99 vado a mezzo metro 90 questo è 90 ok lascio un po vado a 80 vado a un metro sott'acqua praticamente quindi snorteling snorkeling no un metro sott'acqua vado a un metro e mezzo con 70 qua sono un metro e mezzo ok vado a due metri giusto si due metri togliendo 40 adesso vado a due metri e mezzo qua sono due metri e mezzo cioè inizia a essere un po più della lunghezza del mio corpo diciamo io che vado a test in giù col braccio teso con l'action cam vado a tre metri adesso sono tre metri sott'acqua inizia a essere insomma una buona profondità vado a tre metri e mezzo qua sono a tre metri e mezzo sott'acqua che è più o meno 20 30 metri dalla riva seconda 4 metri qua siamo a 4 metri sott'acqua quale action cam rende ancora bene io punto tutto sulla insta ho fatto le prove proprio nel mare funziona va bene qua siamo a 4 metri e mezzo ok 4 metri e mezzo sott'acqua lo lascio un po così si abituano magari i sensori chi lo sa e adesso vado a 50 sono completamente a zero ok sono completamente a zero l'action cam ok sono completamente a zero l'action cam che ha il bianco fedele è quella che vince poi ovviamente è quella che vince quella che ha vinto lungo tutto mezzo metro un metro c'è scendendo deve aver mantenuto il bianco più fedele per ognuna di queste action cam ci sono delle prove specifiche andatele a vedere che si sia sopra acqua sotto acqua con la luce del sole tramonto quindi con poca luce per ognuno action cam c'è una prova specifica anche le vibrazioni la sensibilità andatele a vedere dubbi commenti perplessità il canale telegram marco risparmia tutto per comprarle invece che a 120 a 60 come è successo con la casa v50x e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao